allora buongiorno da italiazzurro 4 victor quebec sierra vinco quasi sempre va a piovere mi trovo sul passo del tomarlo iconico mitico passo del tomarlo allora paradiso per chi va in moto e per chi fa sota e pota perché nel raggio di meno di 5 chilometri abbiamo un sacco di referenze sia sota che pota quindi faremo il pota la scorsa volta ho attivato la referenza che si trova qui dal dal monte penna adesso farò quella che si trova qui dal monte nero a sinistra che alla mia sinistra di là abbiamo il monte nero lago nero passo velozzo vallo e monte ragola monte ragola che è cima sotto infatti aveva intenzione di attivare quella ma manca il disinfettante c'è da ridere ci sentiamo dopo perfetto ah guarda c'è un difetto perfetto quando uno è cretino è cretino ho trovato anche una panchina allora oggi è il 22 primo giorno d'autunno e si sente frequenza in uso la frequenza in uso interrogativo a ti ringrazio collega qui taglia zulu 4 victor quebec sierra portatile qrp in attivazione pota qsl vittor quebec sierra vinco quasi sempre qsl allora ci facciamo lo spot per non diventare matte e qrp italia zulu 4 victor quebec sierra portatile qrp fa chiamata attivazione pota italia tango 10 29 italia tango 10 29 cq pota italia chilo 6 zulu november chilo 59 reali qsl india uniform 4 romeo x ray zulu 59 più 10 e qsl 73 grazie buona domenica delta lima 6 delta lima 6 roger delta lima 6 giuliette oscar eco 59 euro port reference pota itali tango 10 29 qsl o buongiorno italia zulu 5 giuliette lima foxtrot signor claudio perfettamente 59 reali qsl e roger italia uniform otto sierra whisky yokohama 59 qsl ciao grazie a te buona giornata hb 9 eco florida giuliette 59 più più qsl italia chilo 4 imola domodossola firenze 59 qsl roger italia chilo 2 eco chilo quebec 59 qsl allora italia zelanda 0 avanti grazie ciao ciao 73 italia zulu 0 italia giuliette charlie grazie buona domenica allora italia zulu 7 queen eco november 59 allora italia chilo 2 giuliette tango sierra 59 buona domenica ciao ciao scusami se ti ho messo in attesa ciao 73 italia 3 giuliette chilo india qsl certamente scusami italia zulu 4 victor quebec sierra ripeto italia zulu 4 victor quebec sierra ovviamente portatile e anche in qrp buona domenica perfetto italia chilo 1 giuliette november papa 59 più più anche per te grazie buona domenica buona domenica italia zulu 1 whisky oscar bravo 59 oscar lima mike avanti buona domenica florida 8 florida sierra charlie florida 8 florida sierra charlie 59 qsl buongiorno 5 nuori più per te grazie per la referenza buona attività buona domenica ciao italia chilo 6 eco romeo charlie arrivi splendidamente italia chilo 2 lima eco yankee 59 qsl buona domenica ancora italia zulu 1 giuliette chilo hotel 59 qsl quarezzetta india zulu 1 hotel chilo eco corretto oscar november over italia whisky 2 hotel november november 5 november allora italia whisky 2 hotel november november qsl quale italia whisky zero hotel lima eco modulazione pienissime segnale fortissimo 59 più 40 ti ringrazio buona domenica buona attività vinci quasi sempre quel paolo che ti frega ciao 73 please stand by park to park over park to park over sierra 5 7 mike sierra roger italia italia whisky 2 eco delta victor 59 qsl italia whisky 2 eco delta victor 59 qsl francia 5 papa ienchi italia francia 5 papa ienchi italia grazie per l'italiano 59 più più qsl 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 assolutamente non ti devi scusare uno cerca di farsi sentire e bisogna farsi un po' di spazio ti auguro una buona domenica ciao 73 è stato un piacere quale allora italia chilo 2 india qui in delta qsl perfetto italia uniform 3 mike alfa golf 59 qsl allora italia università otto quebec tango chilo qsl perfetto gianni da sanremo italia 1 ienchi perfetto gianni da sanremo italia 1 ienchi hotel università guarda proprio all'ultimo mi stava alzando per cambiare per aprire gli interruttori del dipole e passare in banda a 20 metri perfetto ti auguro una buona domenica il tuo rapporto 59 più 10 59 più 20 qsl ciao 73 magari ci sentiamo in venti ma sarà difficile perché siamo molto molto vicini buona giornata grazie ancora allora i k2 whisky zulu quebec roger roger signori cambio banda non si batte chiodo in 20 metri bravo e la ora in onda spazio obiettivo di X trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni studio Roberto Lanca buona scuola spazio obiettivo di X spazio obiettivo di X siamo giunti a una nuova puntata di spazio obiettivo di X insieme a Graziano Braga ciao Graziano ben trovato ciao Roberto buona domenica a te e come sempre buona domenica e tutti i numerosissimi ascoltatori